Allora, ciao a tutti, siamo qui al Moto Days con Emanuele Sereni della Sereni Motorbike Siamo in Viadige, abbiamo un'officina di assistenza e vendita Ci occupiamo di tutti i scooter marchi cinesi e taiwanesi di cui curiamo l'assistenza in tutte le cilindrate da 50 a 350 cm3 Io mi sono incuriosito, Pietro, mi sono fermato qui nello stand per questo bellissimo scooter, come si dice, mini moto Una piccola motocicletta, un mini bike Perché? Perché io avevo, caro Emanuele, un Moto B della Benelli del 73 comprato qui a Roma e nel vederlo mi sono subito interessato al tuo stand Ecco, rinquadriamo di nuovo, quindi Emanuele vuoi dire di nuovo l'indirizzo del tuo... L'indirizzo, per farci visita, siamo a vostra disposizione anche per eventuali prove su strada Siamo in Viadige 3840 a Roma, attraverso il viatagliamento Ah, viatagliamento? Quartiere Coppedè Coppedè, sì, a vostra disposizione Al centro, ti vedremo a trovare Un saluto, grazie a tutti, ciao Grazie a voi Ciao